La Marina Militare in prima linea contro il Covid a fianco delle istituzioni e della popolazione. Questa mattina a Piano San Lazzaro di Ancona è stato presentato un nuovo punto tamponi destinato agli studenti che aprirà in concomitanza con la ripresa delle lezioni dopo le festività. Il progetto, denominato Operazione Atena, prevede che la Marina concorra nell'attività di tracciamento degli studenti al fine di evitare la didattica a distanza dove possibile. Al momento servirà la provincia di Ancona ma sarà disponibile anche per l'emergenza delle altre province in vista di un potenziamento della presenza di ulteriori dispositivi simili sul territorio. La struttura sarà in grado di rilevare fino a 250 tamponi al giorno e di processarne tra i 90 e i 180 in 7-10 ore grazie al fatto che nel capoluogo d'Orico opera uno dei laboratori diagnostici molecolari di cui la Marina dispone in Italia. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la piattaforma ASUR, otto le professionalità attualmente impiegate tra medici, infermieri e biologi. Quindi stiamo allestendo sostanzialmente un meccanismo per un triage attraverso i tamponi per gli studenti perché noi non possiamo non garantire le lezioni frontali perché ci sono delle evidenze di conseguenze anche sul profilo psicologico derivanti dalla DAD. Come sapete la Regione Marche ha organizzato e potenzierà lo strumento della purificazione dell'aria nelle aule. Questo esperimento che noi abbiamo avviato un anno fa su proposta dell'assessore Latini e del collega Baldelli ha evidenziato un elemento straordinariamente importante, cioè nelle scuole dove c'è il purificatore d'aria non si sono verificati i casi, c'è stato un solo caso positivo e la positività non si è trasmessa agli altri studenti. Il nostro esempio, ha proseguito l'assessore, è stato ripreso anche a livello internazionale. Salta Martini poi ha ringraziato il personale sanitario e i volontari della protezione civile. Siamo la Regione, ha spiegato con il più basso numero di decessi rispetto alle persone che si sono recate in ospedale, segno che il nostro sistema sanitario ha risposto più che bene. Che qui le cose non vanno, le cose dobbiamo migliorarle, ci dobbiamo impegnare tutti, però dopo un anno della pandemia, arriverà la pillola, abbiamo gli anticorpi monoclonali che al manifestarsi dei primi sintomi guariscono, lo voglio sottolineare, al manifestarsi dei primi sintomi gli anticorpi monoclonali guariscono da Covid. Quindi invito tutti i cittadini, i medici di medicina generale a proporre la cura con gli anticorpi monoclonali perché noi abbiamo queste farmaci in quantità enormi nelle nostre farmacie e quindi abbiamo diverse modalità di affrontare questa emergenza. Dobbiamo assolutamente uscire, dobbiamo tornare ad essere delle persone libere come lo siamo stati prima che arrivasse il Covid.